Siamo nella mix zone del Libero Liberati, purtroppo abbiamo assistito alla terza sconfitta consecutiva per quello che riguarda lo score in casa, quattro partite perse al Libero Liberati in questa stagione, questa volta è stata l'Entella, che si sta dimostrando bestia nera dei Rosso Verdi, a vincere con il risultato finale di 1-2. Due gol da parte dell'Entella, di Caputo e di Masucci, a cui ha cercato di porre rimedio nella ripresa Masi, che ha riaperto solo momentaneamente la gara, ma il forcing finale dei Rosso Verdi non ha avuto l'esito sperato. Accanto a me, alla mia destra Gigi Manini, alla mia sinistra Enrico Briotti, grazie di essere qui per commentare purtroppo quella che sicuramente non è una giornata felice. Comincio per dovere di ospitalità, visto che praticamente il nostro amico qui è un fisso. Comincio con Enrico. Allora, che dire? Una ternana senza capo né coda, senza personalità. Ho visto, secondo me, tutti gli errori che si potevano fare, un campionario enorme di errori da parte della panchina. Non so, io oggi non darei addosso per niente ai ragazzi, invece mi interrogherei sulla qualità di chi dovrebbe creare gioco e dovrebbe azzeccare una serie di scelte. Beh, dacci un'indicazione più precisa. Beh, è un'indicazione più precisa. È bastato, per esempio, al primo tempo che i nostri avversari facessero un neanche potentissimo pressing alto per mandare la nostra difesa in paranoia. Non abbiamo giocato con i soliti lanci senza né arte né parte. I nostri calciatori, specialmente al secondo tempo, hanno messo tanto, tanto impegno. Però, quando tu non hai un'organizzazione di gioco che faccia sì che il calciatore, quando riceve la palla, debba darla a destra, a sinistra, in un modo, e debba muoversi, insomma, in un certo modo. Ma deve riceverla, pensare, alzare la testa, guardare chi c'è vicino e poi non trovare magari nessuno. Se non te l'hanno tolta la palla, che cosa fai? Pigli la tiri su, avanti, sperando bene. Questo non è un gioco, non penso, secondo me, centrino più di tanto i giocatori quanto chi li dovrebbe far giocare e chi dovrebbe dare un'organizzazione e un gioco. Allora, mi pare, Gigi, che l'amico Enrico Abriotti se la prenda un pochino con questi automatismi che non ci sono e quindi, di conseguenza, con l'allenatore che evidentemente non li ha creati fino a questo momento. Tu sei d'accordo o no? Beh, sono d'accordo parzialmente, nel senso che oggi Breda ha fatto di tutto, purtroppo, per essere contestato, compreso mettere giocatori che sono chiaramente punti centrali, esterni e attaccanti di movimento centro-avanti, che, tra l'altro, il pallo di Ceravo non è mai stato un bomber, sicuramente avrebbe fatto più il comodo esterno, tipo anche, insomma, diciamo, lo schieramento difensivo del primo tempo era abbastanza discutibile, ma al di là di questo, secondo me, questa squadra, lo ribadisco dalla prima giornata, è una squadra che non ha il temperamento che serve, perché invece i valori tecnici li avrebbe, lo vediamo, andiamo in trasferta a Pescara contro un'ottima squadra e vinciamo, poi dopo ci troviamo in casa con Lentella, iniziamo, che sembra stiamo a fare una passeggiata, un allenamento, prendiamo due golle, poi nella ripresa per mezz'ora abbiamo giocato anche Benino, ribadisco, è una squadra che, secondo me, manca clamorosamente di temperamento e di attributi, purtroppo, forse questo, diciamo, è il difetto più grave, aggiungo, e in questo sono d'accordo con Enrico, però, che oggi il mister ha fatto di tutto, un pochino per complicarci le cose, diciamo, a partire dalla formazione iniziale, ma anche nelle sostituzioni, io sul 2-0, per esempio, a Venatti, che magari non è in gran forma, l'avrei subito inserito, secondo me stiamo un po' scherzando troppo, quest'anno su questo campionato ce la stiamo prendendo tranquilla, perché poi in trasferta vinciamo, magari sempre, però non sarà sempre così, quindi bisogna che cominciamo a prendere punti in casa contro avversarie dirette, e soprattutto bisogna che questa squadra costruisca uno spirito di gruppo, e una grinta, una personalità, un temperamento che fino a questo momento non ha, per salvarsi occorre questo. Oggi alcuni giocatori che abbiamo criticato molto hanno giocato bene, tipo Massi, invece Meccariello che abbiamo inserito in difesa, secondo me è colpevole sul primo gol, secondo me ci sono un paio di episodi da rivedere. C'era anche su Meccariello, però, forse un calcio di rigore, che non è stato visto. Parlo della leggera spinta che ha subito Meccariello sul gol, insomma, una spintarella, però, vabbè, insomma, non ti puoi far spostare in quella maniera, però, sai, forse su altri campi ti fissiano fallo. Poi sul gol, qualcuno parla di fuoriggio, secondo me invece il gol era regolare, il secondo dico, poi nella ripresa un paio di misti e qualche spinta, boh, lì bisogna... La maglietta, la maglietta, sì, su Meccariello, lì forse sembra... Ma intanto noi il rigore non lo danno, ormai l'abbiamo capito, perché se non ci hanno dato questo di Pescara non ce li danno più, ma oggi non parliamo dell'arbitro, secondo me. Abbiamo Massi. Abbiamo Massi e quindi noi ci fermiamo un attimo. Grazie a Gigi Manini, grazie a Enrico Priotti. Andiamo un attimo ad analizzare anche quello che è stato lo schieramento di partenza, soprattutto nelle retrovie, dove c'erano delle assenze e delle problematiche, per cui è stato inserito sulla destra Salif Diandà. Purtroppo, insomma, ancora una volta possiamo dire che non ha risposto come erano nelle attese. Probabilmente Diandà non ha giocato un buon primo tempo. Gli errori nel primo tempo sono stati calamolosamente due, uno sul primo gol di Meccariello, ribadisco, voglio rivedere l'azione. Spintarella, però, insomma, un difensore della sua stazza, non si può far spostare in quel modo. Sul secondo Diandà ha sbagliato, avete visto, è andato a colpire di testa, invece ha la presa con la mano, è stato anche ammonito. Poi sul cross mi pare che marcasse proprio lui, il giocatore dell'Entella, che l'ha presa di testa. Ma in generale l'atteggiamento della nostra difesa mi pare un po' troppo molle. Quello che volevo dire è che noi stiamo parlando di una squadra che secondo me, come valori tecnici, è almeno da metà classifica, però non sottovaluterei la nostra situazione invece proprio di classifica, perché mi pare che col fatto che poi nella sferta andiamo a vincere, cioè vabbè, in fondo alla fine dei punti li faremo. Ho paura che questa squadra, che ripeto, ha valori tecnici buoni, ottimi, anzi direi, non è tanto adatta a lottare per la salvezza, perché manca calamolosamente di temperamento. Cioè la prima mezz'ora che abbiamo giocato oggi, ma mi pare anche quella con l'Avellino, o anche la reazione dopo il gol del Perugia, non sono reazioni di una squadra che si vuole salvare, o comunque non dico che questi non si vogliono salvare, ma per salvarsi occorre un altro tipo di reazione. Questa squadra, che è composta, ripeto, da giocatori bravi, però manca in troppi giocatori di temperamento. Giocatori anche fondamentali. In difesa, prima dicevamo Meccariello, come abbiamo criticato tante volte, ma sì, che poi oggi quando è entrato è andato bene. Lo stesso Meccariello, cioè, insomma, stai marcando Caputo, bisogna a un certo punto, dici guarda che in casa gioco io, caro Caputo, siccome mi arrivi all'altezza della cindola, io alla prossima volta che mi prendeva la maglietta ti stucco una mano. A tal proposito, Meccariello, però, secondo te ha subito il fallo da rigore che ha reclamato nella ripresa? Io dicevo prima, su questo vorrei, non ho rivisto gli episodi, quindi magari parlare di cose che non ho visto non mi piace. Però ho qualche dubbio. Uno, su quella piccola spintarella su Meccariello, che magari non era netta, ma su altri campi della Fissiana non prendi gol. Due, sul gol dell'Entella, ma secondo me quello era regolare. Poi nella ripresa un paio di... Presunto fuori gioco, diciamo, no? Sì, Massucci. E poi dopo nella ripresa un paio di mischie, qualche trattenuta c'è stata, ma ripeto, non so, se non ti danno rigore come quello di Condò a Pescara, io non, secondo me, quest'anno il rigore non l'avremo. Io ho scommesso che sul 2-0 ci avrebbe dato il rigore a un minuto alla fine, quando non serviva più. Invece non ce l'ha dato. E finisce lì. Però ribadisco e chiudo, per essere veloce, manca clamorosamente, clamorosamente fino adesso, e spero che la cosa cambi, magari anche con qualche inserimento a gennaio di giocatori con un po' più di personalità ed attributi, per non usare un'altra parola, manca clamorosamente temperamento. In casa, casa, scusa Livia, dopo una bella vittoria come quella di Pescara, la prima mezz'ora devi essere d'ambureggiante. E chiudo con quello, ti avevo detto che volevo aggiungere qualcosa, non possiamo pretendere che il pubblico venga allo stadio e la squadra non lo trascina. Se tu hai visto un quarto d'ora, la squadra 20 minuti ha giocato, il pubblico che non era numeroso si è sentito, perché in quel momento la squadra l'ha trascinata. Per il resto, sembra di stare a vedere una partita amichevole di metà settimana. E questo non porta gente allo stadio. Tra l'altro dobbiamo dire che oggi i Freak Brothers avevano annunciato che comunque fossero andate le cose non avrebbero fatto tifo fino alla fine proprio per rispettare il lutto francese. Quindi solo una parte dello stadio ha fatto cori di incitamento, però è chiaro che lo spettacolo non è che incitassi più di tanto ad essere effervescenti sugli spalti. Invece lo sono stati, non dico alla fine, ma fuori dai cancelli perché un minimo di contestazione c'è stata. Ma quando perdi tutte queste partite in casa, poi è successo già l'anno scorso, insomma non possiamo pretendere, mi dispiace di vedere questo spettacolo di pubblico. Siamo tornati ai livelli purtroppo di qualche anno fa, di qualche gestione sciacurata, però mi pare che i numeri stanno tornando ad essere quelli. Speriamo, certo, una bella vittoria, un baglio di belle vittorie, anche un bel pareggio col Perugia, per dire dopo il gol di Alde Magno, un bel pareggio, avrebbe riportato un po' di gente allo stadio. Noi questa, ripeto, è una squadra che non trascina la gente e purtroppo i numeri e i risultati poi dopo si vedono. Senti, domani è il compleanno dell'amministratore unico, io lo chiamo presidente perché è più semplice, Simone Longarini, tra l'altro avrebbe voluto gustarsi una bella partita dalla panchina oggi, non era il solito che abbia otto su in tribuna stampa, ma invece non ci è riuscito, insomma penso che si sia arrabbiato abbastanza. Facciamogli gli auguri, secondo me Simone Longarini ce la sta mettendo tutta. Non so se abbia scelto tutto, abbia fatto tutto bene, però lui ce la stia mettendo, secondo me ci sta mettendo tutto, anche dal punto di vista economico sono sicuro che a gennaio se servirà interverrà. Lo vedo tifoso, perché io lo vedo, oggi no, ma in altre partite l'ho visto disperarsi per risultare negativi. Secondo me, talora non è ben consigliato. Ecco, questo qualche volta è accaduto, non so, non voglio parlare adesso dell'allenatore, perché lì secondo me siamo stati un po' frettolossi. Comunque, questo è un argomento che ci porterebbe lontano, magari lo sviluppiamo meglio un'altra volta, no? Magari lunedì, martedì, lo facciamo insieme, perché fino adesso, Breda non mi pare che si sia calato al meglio sulla panchina della Ternana. Secondo me anche sul valore e sul ruolo di alcuni giocatori non ci ha indovinato. Tipo abbiamo parlato tante volte di Valiant, insomma oggi abbiamo visto Gondò e Avenatti fare gli esterni e Cera vuole fare la punta centrale. Esplicemente quando devi recuperare una partita, ha lo stesso Duganziccio fare l'esterno. Boh, non lo so. Secondo me fino adesso non ha indovinato tutte le scelte. Via, voglio usare questo giro di parole. Bene, e allora con l'attesa della partita di sabato prossimo a Crotone anche lì sarà una bella prova ma viste le ultime due trasferte la Ternana insomma con Latina e con il Pescara ha saputo sfoderare il meglio di se stessa chissà che cosa c'è da attendersi. Speriamo. Adesso abbiamo quattro partite tre trasferte e una in casa. La classifica è quella che è speriamo insomma di cogliere almeno quattro partite e io sarei soddisfatto di fare che ti dico sette punti. Ecco, potrebbe essere un buon punteggio. Però insomma in classifica comincia a farsi difficile. tra l'altro mi pare che corrano tutte. Sono tutte lì con due punti uno in più eravamo molto più in una posizione di classifica anche psicologicamente migliore. Peccato. Peccato perché secondo me oggi nella ripresa può un certo punto la sconvita non la sconvita non l'avrebbe meritata. Grazie Gigi Manini. Buonasera. Federico Trastulli Ternana News bentornato innanzitutto da Londra. Sì. Però non sei tornato in una giornata particolarmente lieta. Diciamo che non ho portato benissimo. Non sono scaramantico però ecco è stata una coincidenza negativa. Ma non è colpa tua? No. Decisamente no. Decisamente no. Colpa della Ternana una Ternana malata una Ternana malata di questa febbre d'alternanza che ripeto come ho anche avuto occasione di scrivere in settimana riguarda risultati soprattutto le prestazioni e poi l'umore perché adesso si va a Crotone sicuramente con il morale sotto i tacchi e si va ad affrontare una squadra informissima che è l'unica che sembra tenere il ritmo del Cagliari perché ha staccato in classifica seppur di poco Cesena e Bari e che a questo punto tra l'altro vorrà anche rifarsi di un pareggio a Lanciano uno a uno agguantato appunto dai padroni di casa che sicuramente non era quanto preventivata la vigilia. Qualcuno se l'è un po' presa anche con lo schieramento iniziale scelto dall'allenatore con qualche cambio che poteva essere fatto prima vedi l'innesto anche di Avenatti insomma tu come l'hai vista? Sì qualche cambio poteva essere sicuramente fatto prima qualche cambio poteva essere diverso non capisco perché ostinarsi con Duganzi Cesterno che seppur ci abbia giocato in primavera in Croazia e seppure abbia segnato il gol decisivo a Pescara ma sicuramente non è il tipo di giocatore che poteva scardinare una difesa rocciosa come quella della Virtus Entella con Cercarelli e Pellizzer che sicuramente hanno spadroneggiato non capisco io sinceramente al di fuori di tutta una serie di valutazioni che poi c'è anche chi è più come dire competente nel farle non capisco perché non venga più proposto Belloni che sicuramente poteva dare un po' di brio alla manovra rosso-verde sempre molto statica anche sugli esterni non il miglior Furlan sicuramente non il miglior Gondò forse testa già la nazionale e quindi un altro folletto tra virgolette ad operare fra le linee in una partita del genere contro questa difesa che ricordiamo prima della partita contro il Como era stata imbattuta per 585 minuti sei turni beh insomma l'avrei visto bene ma i numeri sono incontrovertibili la Ternana ha preso 19 gol in queste prime 13 partite ha perso 8 volte di cui 4 sulle 7 partite in casa Breda continua in questa alternanza ma in casa ha vinto le prime due sfide con Novara e Bari e poi ha perso le successive a partire dal derby è difficile è difficilissimo senti invece sullo schieramento difensivo iniziale perché una volta è entrato Masi con Gonzales spostato sulle sere è sembrata una difesa un pochino più ben messa un pochino più attenta invece nel primo tempo insomma diciamo che i due gol sono stati frutto anche di disattenzioni svarioni purtroppo ci sono ormai lampanti evidenti e non serve a niente nasconderlo dubbi su quanto Salif Dianda possa effettivamente apportare al collettivo rosso-verde perché un errore evidente come quello del fallo di mano sulla punizione del secondo poi decisivo gol della Virtus Centella una marcatura persa quella di Ceccarelli che poi ha staccato e ha servito il pallone che Masucci da rivedere non sono sicuro che la posizione fosse regolare questa è una mia impressione in presa diretta ha insaccato appunto sottoporta per il più facile dei gol ecco anche una serie di concomitanze come l'assenza di Valiant che esterno-destro in nazionale ci gioca sempre benissimo come l'assenza di Zanon per squalifica come l'assenza di Jans è ancora acciaccato vedremo se riusciremo a recuperarlo per Cretone perché adesso il vero punto interrogativo si rea a Cretone dove nella fascia sinistra con Vitale squalificato in quanto ammonito in stato di diffida ci sarà un buco che in qualche modo andrà coperto è la volta buona che finalmente Breda possa passare dopo un po' di settimane che è qui alla difesa 3 che è il suo credo ed era il suo obiettivo iniziale vedremo bene con questo punto interrogativo con questo dubbio noi lasciamo e ringraziamo Federico Trastulli grazie Federico preparatissimo devo dire come sempre e buon lavoro grazie a voi altrettanto